Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con la quarta parte della nostra Nazelook Challenge. Quest'oggi appunto sono qua a riprendere il quarto episodio e ci stiamo avviando verso Giardin Fiorito, almeno se mi ricordo che si chiami così. Oh, affrontiamo un Pigliamosche, che bello, mi piace molto affrontare questi Pigliamosche, soprattutto perché Cappero, il nostro Zubat, imparerà tipo attacco d'ala a livello 17 e Morso... Oh, ah no! Bene, prima si fa ammazzare e poi dopo utilizza Super Suono, ok? E ci vorrà ancora un po' perché impari appunto la mossa Morso, comunque si chiama qualche mossa super efficace, cioè super efficace, efficace, via. E quindi, oh perfetto, un Cricketot che utilizza Pazienza, oh cazzo, se lui libera Pazienza mi dispiace Legume, ma tanto eri quello che andava sacrificato per forza. Che, vabbè, abbiamo perso il legume, ma tanto era quello che utilizzavamo per taglio e robaccia varia, perfetto, Vaniglia, riesce a sconfiggere Cricketot. Affrontiamo quindi questa lotta doppia, però vorrei dare innanzitutto a Cappero una pozione, potrei insegnargli anche il ritorno, ma... Cioè, ancora non sarebbe molto efficace. E metteremo al posto... no, aspetta. Farina davanti, eccolo qua, così, perché tanto se no Cappero non riesco ad allenarlo. Comunque sia, ho appena giocato a Black Ops 2, infatti voi vi starete di dire, ma come? Giochi ancora a Black Ops 2? Esatto. Anche perché non sapevo veramente che cosa fare, e mi sono messo, insomma, a giocare a postazione, e mi è venuto fuori tipo un 45-8... Insomma, una buona gunstreak tipo di... no, di killstreak, come si dice, io non faccio commentare su Black Ops 2, almeno ce lo faccio tanto per dire. E... tipo, ho fatto 15 uccisioni tutte di fila, è stata una buona partita, anche perché non me l'aspettavo, eravamo un team, non so come ha fatto, squilibratissimo. Cioè, noi eravamo più avvantaggiati rispetto ai nostri avversari, eravamo tutti con il ratio sopra l'1.40. Black Ops 2 per una volta mi ha messo contro... cioè, contro... mi ha messo con quella gente, perché di solito, infatti, dovrei essere andato contro, e comunque sì, arriviamo a Giardin Fiorito. Quindi, ditemi un po' voi, se la devo caricare, insomma, vi registro la parte, e poi magari vedremo... cioè, vi registro il video. Sono 10 minuti e passo, mi ci vorranno anni e anni, però, insomma, magari potremmo... insomma... cosare, non riesco a capire perché ho ancora Farro, Farro era deceduto. Quindi, Farro dobbiamo depositarlo, perché era deceduto, infatti non capivo, dico, ma Farro era morto. Via. Lascio biduf, perché ci servirà per usare taglio, spaccaroccio, e non per altro. Allora, arrivati al Giardin Fiorito, una cosa da fare, importante, è andare a raccogliere subito queste due pesche... queste pesche. Perché dico pesche? Queste due bacche? Una è una bacca arancia e un'altra è una bacca liegia. Perché, appunto, questo qua, questo casetta qua, è la fiorista, che ci darà, innanzitutto, questa ragazza ci darà lo spray duck per annaffiare le nostre bacche e farle crescere. Mentre, un'altra, appunto, aiutante, ogni giorno ci darà una bacca. Una volta al giorno, voi potete tornare qua, magari, se avete proprio voglia di bacche, aumentate il giorno nel DS, o comunque sia nell'emulatore. Io, in questo caso, non lo faccio. Comunque sia, se ci tornate domani, vi darà un'altra bacca. Qua ci sono, intanto, i membri del Team Galassia, che stanno ostruendo un passaggio, e quindi possiamo anche andarcene. Perfetto. Allora, andiamo di qua, verso il percorso 205. Allora, io, cappero, io non so come mai, vediamo un po', attacco. Attacco, attacco speciale, siamo lì, c'è anche la velocità buona, ha tutta 11, 12, quindi sono pressoché tutto uguale. Qua troviamo altre due bacche, ci fanno comodo, non le ripianto perché non ho voglia, e qua troviamo una bambina. Dice che lei e suo padre abitavano all'impianto turbine, ma poi sono venuti degli uomini che hanno buttato fuori suo padre, lei, dalla casa, e suo padre adesso è scomparso. Quindi, arriviamo all'impianto turbine, e come al solito, parte la nostra Nazarook Challenge, e vediamo un po' chi troviamo. Uno Shanix, eh, ce l'abbiamo già, quindi non si scappa. Oddio, penso che usasse tipo scintilla. Ok, allora, vediamo un po' chi possiamo trovare. Shining, un altro, bene, dai, non è male. Magari altri Pokémon, a parte Shinx, no, Shiningx. Oh, uno Shellos, grande, questo mi piace. Perfetto, allora, quindi il nostro nuovo membro della squadra sarà Shellox. Shellox, non so perché dico Shellox. Idro, già conosci Idropulsar, mamma mia, è una ottima mossa. Uno, due, tre, no, povera troia, quante Pokémon l'ho? Sette, vabbè, ancora dai, ce la facciamo. No, no, niente, niente, l'uso rafforzatore. Usiamo un'altra Pokémon, uno, due, no, niente, niente. Idropulsar di nuovo. Eh, qui, stiamo andando sul rischio. Eccolo, ho catturato, benissimo. Abbiamo catturato lo Shellos, che è buono, è un buon Pokémon. Secondo me, e lo potremmo chiamare, ehm, vediamo un po', ehm, Cetriolo. Vai. Cetriolo. Questo me l'aveva, appunto, suggerito come nome Adverse Leader. Mi ha detto, perché non chiami il prossimo Pokémon Cetriolo? Resto fatto, eccolo qua. Allora, io stop un attimo, alleno, almeno Zubat fino a livello 10. Eh, anzi, facciamo così, li alleno intorno a livello 15. Tutti, Cetriolo, Vaniglia e Zubat. E poi il ritorno. Un secondino solo, eh. Ok, dato che era una cosa noiosissima, allora cosa ho fatto? Ho allenato Cappero fino a livello 12. E niente, Farina dopo è salito di livello, un attimo. Ma comunque sia, siamo rimasti sempre lì. Eh, non ha preso niente di nuovo Cappero, tranne che è sgomento. Mossa altrettanto inutile. E comunque sia, recuperiamo questo strumento qua, una pozione. E andiamo appunto a parlare con questo membro del Team Galassia. Non osare entrare nell'impianto turbine. Con l'ordine di impedire l'accesso a chi non è membro del Team Galassia. Mmm, mmm, lottiamo. Via. Allora, andiamo un po'. Angle Miao. Vediamo gli sgomento. Ah, bene, non ha effetto. Quindi a questo punto vi manderei a Citriolo. Perché deve essere allenato anche lui. E Citriolo vi so ha delle mosse tipo Pantano Bomba, Idropulsar. Veramente bestiali. Quindi non è male per essere un Pokémon di livello 12. Comunque sia, due mosse assolutamente forti. E Citriolo sale a livello 13. Perfetto. Mmm, perfetto. Whatsapp. Ok. Ma non mi puoi rifiutare, ok? Bene, ci dice che per entrare all'interno dell'impianto turbine dobbiamo per forza andare a recuperare la chiave appunto dell'impianto che è in possesso di altri due membri del Team Galassia. Quindi, se vi ricordate bene, dobbiamo ritornare al Jardin Fiorito, andare su, passare da Prato Fiorito e affrontare queste due reclute che hanno appunto quella persona là che è dietro, che costudiscono dietro alle spalle, è il padre di quella bambina. Perfetto, questo è uno Stanky, quindi io manderei farina per essere più sicuro al massimo. perché... Beh, ecco, perfetto per le no gas, che palle. Vai, brracere, e via. E poi un'altra recluta, vediamo un po' questo che Pokémon ha invece. Uno Zubart. Usiamo Sgomento, vediamo se gli fa qualcosa. Beh, sì, dai. Allora, il suo è più veloce ovviamente perché è loro. Sta usando Sanguisuga ruota. Bene, Super Suono l'abbiamo confuso, adesso giù di Sgomento. Però ovviamente Super Suono lo fa confondere, ma non gli toglie niente. Cioè, lui non si autocolpisce. È un grande quello Zubart. Perfetto. Cappero sarà a livello 13 e impara Morso finalmente. Una mossa abbastanza decente. E beh, e già cambia la situazione. Usiamo una Sanguisuga. Il PS lo rivolgo. Perfetto, arriviamo a 24. Quasi a livello 14, Cappero. E una volta che abbiamo sconfitto questi due, queste due reclute, andando via, ci lasciano della Turbo Chiave. Questo signore invece ci regala il Miele, che potremmo spalmare ovviamente negli alberi per trovare qualche Pokémon selvatico appunto il giorno dopo. Tipo Combi, qualche volta mi sembra Era, Cross, forse Ipom, ma non mi ricordo bene. E poi Warp, la ruota, quelli per forza. L'abbiamo già curato? Perfetto. A questo punto ritorniamo verso l'impianto Turbine. Con la nostra ipervelocità. Che poi ho visto che sui video su YouTube la velocità è pazzesca del video. Mentre per quanto riguarda, cioè quando gioco, sembra lenta. Allora, usiamo la Turbo Chiave. Ed entriamo. All'interno ritroviamo la recluta che faceva la guardia appunto alla posa. Guarda qua, qua corriamo come dei pazzi. E affrontiamo appunto tutte le reclute del team che sono all'interno di questo edificio. Iniziamo con Morso. A ruota. Ah, è anche il nemico usa Morso. Però noi abbiamo decisamente più attacco, ho visto. Ok. Usiamo una pozzoncina qua su Cappero. Ormai a livello 14 lo volevo far arrivare. E poi utilizzare anche il nostro Cetriolo. Un Glemiao. Usiamo gli Morso a ruota. Ah, che Glemiao ha un buon attacco, eh? E beh. Un buon attacco. Bene, perfetto. Sale a livello 14. E a questo punto vi manderei Cetriolo perché Cappero è quasi morto. E usiamo gli, eh... Boh, vabbè, è vero Pulsar. Andiamo... Bellissimo! Non ho nessun trucco attivo, eh. Ha fatto tutto da sé solo. Grandissimo. Quindi a questo punto mettiamo davanti il nostro... Il nostro Cetriolo. Eh, il nostro Cetriolo. Detta così può sonare un pochino male. E andiamo ad affrontare... Eh, questo... Ok, ne ho. Andiamo ad affrontare questa ragazza dai capelli rossi. Mmm, capelli rossi. Vecchia tocca di seconda mano. Tu devi essere un Weasley. Sono uno dei tre comandanti di Team Galassia. No, aspetta. Uno dei quattro comandanti. Mi chiamo Martes. Stiamo cercando di creare un mondo migliore di quello di oggi. Ma la gente non... Non... Ma sembra non capire i nostri... Eh... Sforzi. I nostri cosi. Se vinco io, perdi tu. Se vinci tu, vinco io. Perfetto. Eh, usiamo gli Hidropulsar direttamente a questo Zubart a livello 15. Già confuso, buono. Ok, perfetto. La buona cosa di, appunto, Hidropulsar è che può confondere benissimo il Pokémon avversario. Qui c'è Stanky. Si, Stanky. C'è Parugly. Che ci darà, secondo me, qualche firma da torce. Quindi mandiamo Asciuga perché adesso dobbiamo subire l'attacco. Molto probabilmente Asciuga se ne andrà... Eh, infatti, al creatore. E mandiamo Farina. Usiamo il pugno rapido, ovviamente, perché Parugly è normale. E con un Graffio ci ha tolto metà vita. Attenzione! Attenzione, si rischia. Si rischia. Cetriolo sarà a livello 14. Farina quasi a livello 18, ma ha rischiato. È arrivato con 4 punti esperienza. Comunque, sì, una volta che l'abbiamo sconfitta, Martes, presumo che si dilegui assieme a tutte le altre membri del Team Galassia. Perfetta. No, è questo il padre, non era quello di prima. Eccolo qua. Mi ero sbagliato. Eh, papà. Oh, sì, scusa. Ah, ho dovuto lavorare duramente. Grazie all'allenatore. Hai fatto scappare quelle persone cattive. Perso che il Pokémon Pallone tornerà. Il Pokémon Pallone, ovviamente, è Driflim. Che ogni venerdì capita qua. Bellocchio. Ah, sì? Sei tu? Bene. Ho saputo che quelli del Team Galassia sono fatti vedere in questa centrale elettrica. Per questo motivo mi sono precipitato. Allora dove sono? Beh, l'abbiamo già messo in fuga, ovviamente. E lui andrà a controllare. Eh, dopo un po' che ha controllato, ritorna, ovviamente. Ok, ok, perfetto. E noi potremo proseguire. Io, a questo punto, andrò a curare la nostra squadra. Ehm, inizio a dire, già per il finale, che se volete quel match di Black Ops 2, ve lo registro in qualche modo. Magari mi ci vorrà 80.000 anni per uploadarlo, ma lo farò lo stesso. Eh, se vi vuole piacere, altrimenti non ve lo uploado. Eh, ovviamente non ho un PVR, quindi magari se è Adversi Leader, dato che guarderà comunque questo video, lo vuole, me lo vuole registrare come vuole lui. Comunque sia. Allora, la nostra squadra, voglio vedere le statistiche. Ehm, attacco buono. Difesa e difesa speciale molto. Attira le mosse tipo acqua mirata a un Pokémon. Ok, perfetto. Questo può essere buono nei scontri doppi. Poi, eh, farina ovviamente, attacco, attacco speciale, velocità, molto buono. Vaniglia, ha buon attacco fisico e buona velocità discreta. Vabbè, legume, acciuga, cioè quello che dovremmo mandare nei box. E poi cappero, che ha sia un buon attacco che una buona velocità, ma anche un attacco speciale non male, eh. Impedisce al Pokémon di tentennare. Perfetto. Quindi, io spero che questa parte vi sia piaciuta. Come al solito, io vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Ehm, se c'è qualche domanda che volete sapere, qualche news e qualcosa, ringrazio tutti gli utenti che hanno scritto della Naziluk Challenge. Qual era la storia vera. Insomma, questa mi ha fatto molto piacere. Vuol dire che vi piace questa serie. Come al solito, vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da Ascettatato. Ciao ragazzi.